Amici soft gunner amanti dei video action bentornati qui sul mio canale questo è un video in cui io ed Hellboy dobbiamo recuperare un obiettivo eccolo qui Hellboy e vedete che il video è sottotitolato in italiano perché parliamo in dialetto ma secondo me i dialetti italiani sono tutti belli allo stesso modo e sono una ricchezza per il nostro territorio quindi viva il soft air viva l'italia e ragazzi se questo video vi piace spolliciate in su mi raccomando ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi Mia facciamo giuri a rete a forzi dammi A presto ah come subito ti amo Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Sì, è vero, è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.